Buongiorno Gemmine, buon giovedì, benvenuti in questo nuovo vlog, benvenuti in un nuovo disastro. Buongiorno, buongiorno Gemmine, eccomi, mi faccio vedere, buon giovedì, benvenuti in questo nuovo vlog, ma se ve l'avete già detto, ma ve lo dico guardandovi in faccia, e oggi sono contenta perché abbiamo programmato una giornatina per girarci il centro di Roma e farvi vedere tutte le cosette natalizie che hanno messo, quindi abbiamo fatto un percorso pianificato con varie tappe e poi andremo anche a fare una bella merenda e ovviamente vi portiamo con noi, quindi adesso mi stavo finendo di sistemare e andiamo. Eccoci qui, arrivati in centro, siamo scesi dalla metro a Ottaviano perché la prima tappa del percorso che ha creato Cesare, io gli ho detto dove volevo andare, lui ha creato il percorso e si trova proprio qui. Siamo nel punto più lontano. Esatto, siamo nel punto più lontano, adesso siamo su Via Ottaviano, questa vero? Oddio. Mi sa di sì, dove c'è il Castroni, c'è pure il Jolly B, sarà un profumo e dobbiamo andare però noi a Piazza San Pietro perché voglio vedere e farvi vedere se c'è il presepe, quindi probabilmente ci sarà, quindi la prima tappa sarà questa. Allora, mentre stavamo andando a San Pietro che è lì giù abbiamo trovato dei mercatini di Natale che non avevo assolutamente trovato cercando su internet, sono in questa piazza, non ci sono tantissime cose però, un pochino di presepi, zucchero filato, poi qua hanno messo un po' di fiorellini e da questo lato c'è la pista di pattinaggio qua dietro, a Treghiu, non lo so, carino comunque dai. Eccoci arrivati a San Pietro, quella è la fila per entrare e brutta notizia perché l'albero c'è e il presepe invece è ancora chiuso, anche se sembra pronto. Adesso ci avviciniamo, andiamo a vedere se riusciamo a vedere qualcosa. Niente, failed, il presepe non è ancora pronto, però mannaggia a loro perché scusami, il presepe va fatto entro lotto, il problema è che è il presepe che viene dal Peru, quindi forse in Peru non si usa fare il presepe lotto, hanno fatto ritardo, non lo so, comunque vabbè, è sempre bello lo stesso venire a San Pietro e poi è carino perché c'è l'albero che sicuramente dopo sarà ancora più bello perché stasera sarà illuminato, spero, quindi vabbè, se venite a Roma, Tappa, San Pietro, dovete venire per forza. Allora, la nostra passeggiata continua, siamo arrivati da là che c'era San Pietro, qui c'è Castel Sant'Angelo. Da quella parte ci sono delle bancarelle molto carine, tipo stile Parigi, dove vi do una tip, vi potete andare a fare delle foto. C'è anche la giusta coi cavalli ma è chiusa da tempo e qui dentro si entra di là e si esce di qua. C'è anche un parco molto carino che costeggia il castello, qui c'è il Tevere e noi adesso giriamo di qua e facciamo questo ponte sul Tevere. Qui sotto c'è anche la pista ciclabile per andare da quella parte, verso Piazza Navona. Noi abbiamo girato su Via dei Coronari che è una via molto carina per arrivare a Piazza Navona. Qua c'erano tutte botteghe tipo questa, tipo di cose antiche, artigiani, così, magari molto ricercate che purtroppo hanno chiuso perché c'è mancanza di mercato. Ce ne sono poche. E piano piano hanno aperto al posto di queste botteghe delle cose da mangiare. Esatto. Attualmente ci sono un po' di tante cose da mangiare. Tante proposte gastronomiche diverse, tanti posti carini. Sì, sì, è comunque una via molto carina. E' lì c'è il nostro gelato di fiducia. Lo prendiamo? Sì, dai, con questo sole. Con questo caldo più che altro. Vedete che sono rimasti comunque alcuni negozi molto particolari. Tipo anche questo. E poi c'è questa piazzetta anche molto carina con la fontana che è chiusa. Questo qua dei quadri. Allora, noi venivamo di là e qui è back the bam. C'è un qualcosa che Cesar vi voleva tanto far vedere. Ma l'abbiamo già fatto vedere. L'abbiamo già fatto vedere un'altra volta. È un mercato dello stadio di Domiziano. Stadio di Domiziano, sì. Praticamente è la stessa forma di Piazza Navona. Ok. E proprio qui dietro c'è Piazza Navona. Andiamo, dai. Qui all'angolo c'è un negozio di giocattoli stupendo. Una volta mio zio mi ha comprato un peluche a forma di aschi. Oh, guarda, è dal 45 questa qua. Oh, è vero. E qui c'è Piazza Navona. Tan 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 tan. Però, raga, questo video sarà un super sale. Perché le bancaiole di Natale non ci sono. Che poi, in realtà, non so per quale motivo. Perché ho letto che dovevano metterle i primi di dicembre, diceva. Quindi oggi è 9. Avrebbero dovuto già esserci, insomma. Però sappiate che se venite magari la prossima settimana, probabilmente le trovate. Oppure se venite a Roma anche proprio per Natale. Se vi venite a fare una passeggiata in centro. Ci sono le bancarelle, di solito, in questa piazza. Beh, in ogni caso ci facciamo un giro lo stesso di questa piazza. Che è sempre comunque bellissima. Ed eccoci arrivati al Pantheon. Qui sapevo già che non c'era niente di Natalizio. Però comunque ci sono tante lucine. Ed è molto carino. Raga, noi siamo passati davanti al Tempio di Adriano. E miracolosamente è aperto con ingresso gratuito. Quindi noi entriamo così all'improvviso. Che bello! Non eravamo mai entrati. Di qua è la camera di commercio. Camera di commercio, è vero. Guarda che bello! Non so se è aperto solo oggi o... Boh. O come. Boh. Che dire? Una bella sorpresa, eh? Siamo arrivati alla prossima tappa. E questo, raga, non è un fail finalmente. Ta-da! Hanno messo l'albero a Piazza Venezia. Lo spelacchio di quest'anno. Dai, non è spelacchio. Quest'anno è bello. Vero? Sì, dai. Dai, dai. È molto bello. Ora ci avviciniamo. Eccolo qui. Ve lo faccio vedere da di fronte. Devo dire che è molto carino questo albero tutto colorato quest'anno, eh? E poi, da questa parte, hanno messo anche tutte le luci su Via del Corso. Guardate che belle! Adesso, comunque, andiamo di là, così le vediamo proprio da sotto. Belle queste luci, vero, amore? Hanno messo tutte le piazze più importanti di Roma. Allora, prima c'era quella dove siamo sposati, del Campidoglio. Questa? Circo Massimo. Circo Massimo, è vero. Nel fondo c'è Piazza Navona. Piazza Navona, è vero. Vediamo se le riconosciamo tutte. Vabbè, senza essere sicuro, io no. E questo amore che piazza è? Porta Pia. Porta Pia, ok, non l'avrei riconosciuta. È la breccia, vedi? È vero, hai ragione. Noi siamo entrati un attimo nella Galleria Colonna, perché abbiamo visto che era tutta quanta addobbata. Guardate che bella. Carino, dai. Galleria Alberto Sotti. Che cosa ho detto io? Galleria Colonna, ho sbagliato. No, no, che poi credo che, oddio, Galleria Colonna, sì. Prima era Colonna, adesso Alberto Sordi, vero? Vabbè, comunque ci siamo capiti. È su via del corso. C'è la Feltrinelli, un bell'albero. Molto bello. Un sacco di lucine. Allora, lì in fondo c'è la piazza del Pantheon, nelle lucette. Qua Spagna. Piazza di Spagna. Giusto, amore? E qui finalmente siamo arrivati davanti alla Apple e è aperto miracolosamente, perché è giorno e non è notte. Quindi entriamo a vedere un po' il palazzo, perché sembra molto bello da fuori. È stupendo proprio sto palazzo, comunque. Guardate che bello il cortile. Grazie. 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 Noi siamo usciti dall'Apple Store e qui c'è anche il negozio di Natale, sempre su via del corso. Una volta siamo entrati, vero? È carino, potete fare pure le palline personalizzate, mi pare, col nome, è carino. Questo guarda, amore, con lo suo quadrato, giusto? Palazzo della Cività Italiana. E poi lì in fondo? Quello è l'arco di trionfo. Ah, il trionfo di Costantino. Ok. Il nome è proprio quello. Siamo più o meno alla metà di via del corso, dove poi inizia via Condotti, che è questa. In fondo di là c'è Piazza del Popolo. Sai perché fai aspetti che mi sbaglio a raccontare qualcosa? E invece qua c'è il palazzo Fendi, che solitamente ogni anno lo decorano. Quest'anno hanno messo soltanto questo schermo. L'anno scorso c'era tipo un fiocco bellissimo. Però non è male, dai, tutto illuminato. Ah, qui c'è il Colosseo, guarda. Wow. Colosseo. Qui hanno messo quelli più belli, guarda. Castel Sant'Angelo, lì in fondo. E poi Fontana di Trevi. Ok, questa non è la Fontana di Trevi, come pensavo io, ma è il Fontanone del Gianicolo. Che, a detta di Cesar Angela, l'hanno fatto come prova per realizzare poi la Fontana di Trevi. Oddio. Guarda, quello ti mette là sotto, amore. Ce la fa? Ce la fa! Bello. Piramide. Giusto, amore? Sì. Con Porta San Paolo. Con Porta San Paolo. Quello sui fori, i fori romani. Ok. 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 Questa è Piazza Venezia, vero, amore? Sì, è Vittoriano. Ok. E infine, il colonnato del Bernini. Piazza San Paolo. Si vede che me l'hai appena detto tu. Non so se oggi è tipo una giornata particolare per i carabinieri, però stanno facendo tipo uno spettacolo. se così vogliamo dire. Tipo una banda. Sì. Da Ciriglione. Esatto. Qui a Piazza del Pomolo. È troppo carino perché insieme ai cavalli c'è un cagnolino. Troppo carino. Ora ve lo mostro. E adesso, da Piazza del Popolo, stiamo tornando, tra virgolette, indietro, su Via del Babuino, per arrivare a Piazza di Spagna. Raga, ma quello era Enzo Miccio. Tipo, ma quella chi era per anni? No, veramente era lui. Ce l'avevo tipo di fronte, era qui. Solo che mi è sembrato troppo brutto fargli il video di fronte. C'era la giacca del Decathlon qui. Magari mi avrebbe detto, ma come ti vesti? Lui aveva tutte le buste dello shopping invece. E qui siamo arrivati a Piazza di Spagna, c'è la barcaccia con le tanto amate transenne, amate in senso ironico ovviamente, perché stanno ovunque e sono orribili, però è comunque bello. L'immacolata concezione è lì, quindi l'otto che era ieri, proprio ieri, sono venuti qua a forgere gli omaggi. Ok, poi da questa parte c'è Via dei Condotti. Questo è Dior, guarda che spettacolo. Bello, molto bello. E questa strada ti porta a Via del Corso dove c'era la piazzetta con il negozio Fendi, dove siamo prima. Guardate, ci siamo avvicinati all'Obelisco. E questi sono tutti i fiori che hanno donato ieri, l'8 dicembre. Belli, eh? Guarda che bello questo. Uffa, ha iniziato a piovere. E quindi noi ci rifugiamo in una bella merenda da Gianfornaio, che è questo forno qua, se riesco a girare, eccolo là, che ci siamo andati una volta a Via del Libia, ma adesso è aperto anche qui vicino a Piazza di Spagna, perché Piazza di Spagna è quella. E così ci riscaldiamo. Questi bicchieri ne vanno il caffè, guarda. Che carine, queste sono tutte mini-sucker, sì. Carine. Poi il crumble. Questo è il Danubbio. Ah, questo l'avevo mangiato a Via del Libia una volta. Questo è il pandoro, pistacchio, cioccolato, cioccolato, cioccolato con destra. E i torroni. Questi sono i torroni, pistacchio, cioccolato, 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 cioccolato. Eccoci qui tornati a casa, Gemine, mamma mia, abbiamo fatto una merenda che, cioè, era praticamente una cena, quindi anche se sono le nove e mezza, ammazza, ci abbiamo messo tanto anche a tornare, abbiamo fatto poi un giro a piedi, al buio, e poi siamo tornati a casa, insomma, siamo stati anche un bel po' a fare merenda e non ceneremo, ovviamente, perché abbiamo mangiato un sacco di cose. E comunque, mi sono ricordata, appena adesso mi sono in pigiamata, stavo per struccarmi, ma mi sono ricordata che oggi non ho aperto i calendari dell'avvento, perché stamattina avevo la macchinetta scarica, quindi ho detto, lo faccio dopo, così carico la macchinetta e poi spacchetto i calendari con voi, e poi mi sono scordata. Quindi, ora, sono davanti ai calendari dell'avvento, e così li spacchettiamo insieme. Allora, oggi tra l'altro ho anche un po' sistemato quest'area, perché era un po' disordinata. Quindi, per prima cosa, oggi è 9, 9 dicembre, calendario Kiehl's, ecco qui, il 9, veniamo, cosa troviamo? Opla! Allora, questa dal pack, mi pare di ricordare che l'ho già provata, è la Rare Heart Deep Pore Cleansing Mask, con Amazonian White Clay, ok, quindi una maschera all'argilla che purifica e minimizza i pori, carina. Poi la usiamo, ora la rimetto dentro. Poi, allora, Ikea, oddio, mi sa che adesso proprio il cioccolatino non mi va, mi sa che li apriamo direttamente domani, ne apriamo due insieme. Poi, Essie, numero 9, eccolo qui, vediamo un po'. Un altro smalto rosso, ma un rosso diverso da quello che avevamo trovato qui nella casella 3. Lì era un po' Bordeaux, qui invece è proprio un rosso, direi proprio un rosso Bobbo Natale, e si chiama Fifth Avenue, quindi è proprio un rosso New Yorkese natalizio, ecco. Lo rimettiamo a posto e vediamo The Gustabox numero 9, dove sta, dove sta? Eccolo qua, numero 9, che cosa c'è? Che cos'è? Sembra un altro tè? Vediamo un po'. Ci sono dell'inverno, sì! Oddio, ma è incostratissima! Com'hanno fatto a metterla qua dentro? Ecco qua. Allora, favola di Natale, la marca è Regina di Fiori Bio, tesona dell'inverno con, ah, questo qua, Roy Boys, come lo chiamo io, cacao, cannello e zenzero, wow, questo sarà davvero buono, secondo me. Vediamo un po', ma forse non si può annusare, perché sono tutti chiusi, giustamente. Che strani poi, guarda che carini! Non si sente per niente il profumo, questo, mamma mia, secondo me sarà buonissimo. Che bello! Sono contenta, non lo rimetto dentro perché non ce la farò mai, magari lo metto qui insieme, ok, ai biscottini, e questo lo rimetto a posto. Ora mi vado a fare la mia skin care e poi me ne vado a letto, ce ne andiamo a letto, e anche perché domani è il compleanno di Cesar, quindi abbiamo tante cose belle da fare e dobbiamo essere belli riposati. Eccomi qua, Gemini, avevo detto che andavo subito a riposarmi, ma in realtà ancora sto qui in giro perché ho pensato di fare delle cose per domani, già da stasera. Scusate, c'è un casino perché c'è la cappa accesa, perché sto allestando le verdure e sto anche buttando un po' tanto, ad essere sincera, che stavo cercando di asciugare, ok, perché era troppo alto. Mettiamo... Mettiamo... Ah, oddio! Stavo andando in casino! Mettiamo sette, non di più, perché sennò mi esce tutta l'acqua. Stavo allestando delle verdure, perché domani, per il compleanno di Cesar, abbiamo affittato un appartamento al Terminillo per stare un paio di giorni sulla neve. E per la cena di domani voglio fare la fonduta. Quindi l'altro giorno che siamo andati all'Esselunga, avete visto nel blog scorso, e abbiamo acquistato la fonduta già pronta. In realtà non era difficilissimo da fare, avevo trovato le ricette. L'unica cosa è che se la facevo io, probabilmente si sarebbe indurita troppo presto, perché non abbiamo il contenitorino, quello con la tendolina sotto, per tenerlo in caldo. Quindi ho deciso di prendere un barattolo con la salsa già pronta, perché magari all'interno ha degli ingredienti che non la fanno mai indurire al 100%, ma la fanno comunque rimanere un po' cremosa, anche se si raffredda un pochetto. Quindi appunto abbiamo deciso di acquistarla. Però volevo fare le verdure, lette, stanzi un pacci dentro, e domani mattina dobbiamo passare anche da Lidl a prendere i pretzel, e anche dal nostro macellaio di fiducia a prendere delle salsicce che vogliamo fare nel camino. Per quello abbiamo preso la legna nel blog scorso, perché nell'appartamento c'è anche il caminetto. Quindi adesso mi stavo portando avanti, perché non voglio fare lì domani nell'appartamento queste cose, non voglio perdere tempo all'essare le verdure, quindi le stavo appunto lessando già da stasera, e ho messo una patata, una patata dolce, un pezzo di zucca, delle carote, e adesso per ultimo devo mettere il broccolo, che si cuoce più presto, e basta, così mi porto le verdure già allessate. Lì dietro stavo facendo la valigia che in realtà non c'ha dentro i vestiti, ma è piena di roba per fare la cioccolata calda, per fare appunto la cena carina, quindi insomma un po' di cosettine. Stavo facendo, stavo vedendo la mia lista, e più o meno dovrei aver pensato a tutto. Quindi appunto adesso finisco di tagliare il broccolo, lesso anche il broccolo e poi vado a letto. Buongiorno amore, tanti auguri a te. Grazie. Oggi fai 30 anni e sembra che... Nooo. Però la tua English breakfast ha il cuoricino. Quindi benvenuti negli ENTA. Benvenuti. 30, 40, 40. Ha 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 ha. Buon appetito. Vi volevo far vedere un po' di cosine che ho preso da Ava in May, visto che l'altra volta eravate molto interessate, ho fatto un altro ordine con il codice sconto precedente, e mi hanno dato un nuovo codice sconto, che è Gemmina e vi dà il 55% di sconto senza spesa minima, e se ordinate in sol 19 avete l'invio quello rapidissimo, e vi arriverà il pacco prima di Natale. Ma il codice sconto comunque vale fino al 31 dicembre, quindi se non volete le cose per Natale potete anche ordinate dopo, però appunto mi raccomando, se volete che vi arrivi il vostro pacco entro Natale, ordinate prima del 19 o entro il 19. Vi faccio vedere velocemente quello che ho preso. Allora, c'era un set composto da queste due cose, quindi ho ordinato un'altra candela Norimberga, che era quella che mi era piaciuta di più l'altra volta, proprio super natalizia, solo che questa volta l'ho presa nella versione grande, guardate che bella, e sono indecisa se usare questa sulla tavola natalizia, che è buonissima, questa sa di cannella, sa proprio di mercatini di Natale, è veramente buona, se vi piacciono le cose speziate è buonissima, ed era abbinata nel set anche insieme al Christmas Tea, sempre appunto Norimberga con la stessa profumazione, che purtroppo adesso non si sente perché è ancora chiuso, però se sa uguale alla candela sarà buonissimo, c'è l'ibiscus, cannella e cioli di garofano, e questo secondo me è anche un'idea regalo molto carina, sia da regalare insieme alla candela, oppure se le prendete insieme separatamente, se magari a qualche vostra amica piace il tè, potete regalare una tazza insieme al tè di Ava e May, quindi è molto carino e vi dico questa chicca, perché magari non sapevate che Ava e May vendeva anche i tè, invece ha messo anche dei tè e sembrano buonissimi, poi un'altra candela che ho preso, ed è l'altra su cui sono indecisa se mettere al centro della tavola di Natale, quella, forse quella la userò per Natale, questa invece la userò per Capodanno, che è la candela allo champagne, e la confezione è stupenda, tutta dorata, guardate che bella, e anche la candela, questa l'ho presa nella versione normale, media, diciamo, né piccola né grande, guardate che bella che è, ed è buonissima, proprio di champagne, leggermente floreale però, buona buona, questa è elegante, secondo me sì, ecco questa la metterei sulla tavola di Capodanno, sicuramente la utilizzerò lì, poi ho preso due cose, fragranza Pino, che le ho già annusate, e sono, non potete capire, buonissime, troppo buone, ho preso sia il profumatore per ambienti, al Pino appunto, quelli che avevo preso anche l'altra volta, ve lo mostro velocemente, è il profumatore, questo qui con i bastoncini, intanto guardate anche il colore che è carino, proprio di questo verde Pino, praticamente questa è l'acqua profumata, levate il tappo, mettete i bastoncini all'interno che si inzuppano di profumo, e poi per chiudere in modo carino, c'è questo tappino in legno aperto, da dove usciranno i bastoncini, è buonissimo, troppo buono, e la stessa profumazione, siccome adoro il Pino, e ho pensato anche di spruzzarci l'albero di Natale, ho preso questo, che è appunto lo spray profumatore per ambienti, appunto al Pino, e io di solito questi spray profumati lì spruzzo, sulle tende, sul divano, sul bordo, quello lì del letto, sulle cose di stoffa, perché così si impregna il profumo, e rimane abbastanza persistente, per diversi giorni nella casa, e appunto questo, pensavo di spruzzarlo sull'albero di Natale, in modo che profumi proprio, di albero di Natale vero, come quello che prendevamo in Messico, che ha esattamente lo stesso profumo, aveva lo stesso profumo, e mi piaceva un sacco avere questo dure di Pino in casa, quindi magari, se vi piacerebbe avere un Pino vero, questo secondo me è una buona, una buona chicca, e potete appunto spruzzare l'albero di Natale, finto, con il profumatore, questo qui, e poi ho preso due candele, da regalare, di concrete, guardate che carine, queste le ho prese, nella profumazione e nome, Mosca e Sydney, e queste secondo me sono carinissime da regalare, proprio perché sono semplici esteticamente, quindi possono star bene in qualsiasi casa, questa ha un profumo, troppo buono, troppo buono, e poi, questa invece è uguale, appunto ho preso Sydney, come sapete, Avamea, le candele, e anche i profumatori in generale, le profumazioni hanno sempre il nome, di una città, del mondo, questa è freschissima, questa è perfetta anche, un po' da uomo, secondo me, davvero buona, buona buona, e ogni profumazione appunto richiama, una parte del mondo, quindi, è carino anche da regalare, che ne so, se avete un'amica che sapete che gli piace, ecco, la Russia, magari gli regalate la candela, con scritto Mosca, oppure magari, un'amica che proviene, da Londra, che ne so, per farli ricordare casa, ecco, sono molto carine, vi ricordo il codice Giammina, e vi lascio nell'info box, il link, e adesso, mi vado a spruzzare, il mio pino finto qui, così, sembrerà vero, che buono, mamma mia, mi spruzzo anche, un po', l'albero, neve, neve, compleanno di Cesar, non può, che essere, sulla neve, però sta, c'è tipo acqua e neve, per adesso acqua e neve, ma, dobbiamo salire tanto, quindi, secondo me, sopra sarà tutto bianco, e siamo quasi, arrivati in cima, ma, come facciamo a uscire, qua? non lo so, non ho idea, oddio, sta nevicando tantissimo, allora, Cesar sta lì, scaricando la macchina, noi abbiamo affittato, un appartamentino, in questo palazzo, guardate che carino l'ingresso, tutto di legno, hanno fatto anche l'albero col presepe, e questi sono i nostri bagagli, eccoci arrivati nel nostro appartamento, questa è la porta d'ingresso, vi faccio vedere brevemente, vabbè, qui c'è il bagno, minuscolissimo, però, almeno ci sta, qui c'è uno sgabuzzino, ma è chiuso, che c'è? Sì, un sacco di pentoloni, noi, qui c'è la cucina, noi ci siamo portati un po' di cose, perché vogliamo cucinare, quindi, non ero sicura di cosa ci fosse, eh sì, ce n'è pure un'altra lì, io l'ho portata, la caffettiera, ho portato il caffè, ho portato il sale, ho portato tutto, le posate, l'unica cosa che non ho portato, sono i piatti, e ci sono lì, guarda, piatti e bicchieri, avevo portato pure i calici, invece ci sono lì, c'è il forno, così facciamo i cornetti domattina, mettiamo le salsicce in frigo, che prima siamo andati a prendere le salsicce, comunque, questo è l'appartamentino, piccolo, però devo dire carino, qui ci sono, se qui c'è il camino, tavolino, e poi il pezzo forte, divano, la tv, sì, il pezzo forte direi, che è questa stupenda doppia finestra, sulla neve, guardate che bello, sta nevicando tantissimo, siamo pure alti, che bello, oddio, però chiudo che soffritto, mi chiedeci di chiudere, io faccio vedere la camera da letto, che è qui, così adesso, ci cambiamo, ci mettiamo delle cose più pesanti, qui ci sono, c'è il piumone, non erano incluse le lenzuola, e gli asciugamani, quindi ce le siamo portate, però ci sono comunque i cuscini, e il piumone da metterci dentro, noi ci siamo pure portati i nostri sacchi a pelo, per sicurezza, qui c'è tipo anche, un piccolo beauty, e qui c'è un'altra finestra, bello, non apriamo troppo le finestre, amore, che c'era scritto che il riscaldamento, lo riaccendono alle 5 oggi pomeriggio, quindi, se no si raffredda tutta la casa, cioè guardate, il ghiaccino, comunque noi, lo posso mangiare, secondo te o fa schifo? secondo me fa un po' schifo, però mangialo, siamo in natura, comunque c'è, ci stavamo facendo, una piccola escursione, stiamo facendo la stessa pasticola, che abbiamo fatto, al nostro anniversario, vi ricordate? solo che ora, c'è un sacco di neve, e c'è una, tipo una microtempesta, in questo momento, ci stiamo riparando, con questi alberi, qui, e, buono questo ghiaccio, sta di ghiacciolo, buono, comunque questo ombrello è orribile, perché questi colori, sono tipo, tipo estate, però siamo qua in mezzo, non è vero, un po' di colore, fa super freddo, fa freddo, fa freddo, mmm, allora potete, che bello, un po' di colore, amore che devo dire una cosa cosa credi di fare? ti ho vista buon cumpleanno noi siamo tornati alla base la panda si è agghiacciata e siamo venuti a prendere dal frigo lo champagne per festeggiare il compleanno del marito auguri 30 anni grazie per ricordarmi 30 30 30 terzo piano andiamo a bere la champagne allora siamo tornati nella nostra casetta Cesar sta già accendendo il camino c'è un buonissimo odore di legna una pizza no adesso facciamo le salsicce però io ora devo preparare la camera ho portato le lenzuole e tutto quanto così adesso faccio il letto ne approfitto e poi mangiamo nel frattempo il nostro champagne si sta raffreddando qui alla finestra ieri quando siamo andati a fare merenda dal Gianfornaio erano rimaste delle pallette di Danubio alla Nutella quindi ce le hanno date da portare via e io le sto riscaldando al camino e nel frattempo qui ti stai godendo la vita amore come stai? è un po' buio non so se si vede bene la vista è bellissima e qui abbiamo messo tutte le lucette e ho fatto due tazze di tè quello lì che ho trovato nella degusta box favola di Natale com'è l'odore? mamma mia amore è buonissimo sembra davvero buono così adesso ci facciamo questa piccola merendina e poi dopo iniziamo a preparare la cena di compleanno sì perché sono le 5 e ha fatto buio esatto però va bene ci siamo portati tante cose da fare dai un bel film cucinare fare la torta ah vi faccio vedere il letto aspettate dove si accende oddio perché la finestra? la finestra si muove tipo da sola no no la bottiglia sta là sta bene e qui ho fatto il letto tadan certo questi quadri sono un po' estivi vero? potevano mettere tipo dei paesaggi innevati che ne so invece boh che sembrano tipo peruviani boh asiatici che sembra comunque sembra un posto caldo sai che sembra? tipo quelle isole dei caraibiche tipo caraibiche anzi tipo un po' questi cappelli però sono eh no quello là come si chiama? tipo Polinesia quelle cose là vero? così la facciamo perfetto per la neve era meglio un paesaggio innevato dai e questi ora me li metto dai beviamo il tè e mangiamo il danubbio il fuoco sono riscaldati? si che buoni ho proprio una buona idea tortina per il marito pronta amore ti ho fatto una sorpresa mentre andavi a controllare la macchina se c'aveva la multa o no tadan foresta nera no amore dopo allora sarciccette del nostro macellaio di fiducia oggi siamo stati 40 minuti in fila solo per prendere 4 sarcicce quindi quindi merita le vogliamo cuocere nel cammino? ma le vuoi tagliare a metà amore? no adesso adesso facciamo aspetta comunque la situazione è questa fa freddo fuori ci sono meno 7 sta nevicando e la legna che abbiamo portato è quasi finita ci sono rimasti solo questi due i riscaldamenti sono un po' fasulli devo dire la verità non è che riscalda più di tanto c'è quel coso lì che è acceso che tra l'altro spegneranno alle 21 però non riscalda quindi se la casa è calda è perché il cammino ha riscaldato casa e e quindi non lo so qui c'è la giacca di Francesca che non essendo impermeabile ovviamente io l'ho detto ce l'aveva pure ma non l'ha voluta portare si è tutta bagnata quindi l'abbiamo messa qua così magari si asciuga intanto cuciniamo abbiamo di tutto di tutto abbiamo prezze verdure lesse che ho fatto ieri e la fonduta abbiamo presa all'esse lunga ora l'ho riscaldato a bagno mania così buono allora l'antipastino è quasi pronto mancano solo le pizzette che si stanno riscaldando nel camino come primo il nostro menù prevede gli spazzle quindi li ho appena messi nell'acqua bollente fammi alzare un po' perché non bolle più facciamo tutto un menù come se stessimo al tuo tesino esatto come se stessimo sulle alpi dai dai sì meno montano e se sono pronte le pizzette amore mettile no qui c'è un pelucchio aspetta il tuo morire ok non so che te lo volevi mangiare le pizzette se sono pronte le pizzette prendi questo e oh no non è vero che cattivo però sono caldissime guarda un po' che è buono il nostro antipastino allora noi stiamo finendo di cuocere le salsiccette ancora non abbiamo mangiato l'aperitivo abbiamo appena aperto il nostro champagnino cin cin amore auguri buon compleanno ci siamo messi qui tipo picnic per terra pizzetta ecco qui le spazzle allora ragazzi la situation è questa qui c'è la fondue a bagnomaria salsiccetta dentro wow sembra buono che spettacolo che roba mamma quanto è buona proprio buona bravo questa è lunga questa fonduta si eh mamma mia è bravo al macellaio nostro che ha fatto quelle salsicce che spettacolari noi siamo usciti a fare una passeggiatina perché sta nevicando tantissimo guardate e poi eravamo troppo pieni e dovevamo ancora mangiare la torta quindi abbiamo detto usciamo facciamo due passi raffreddiamoci un po' ci siamo super accaldati ma la panda non c'è più eh la panda è completamente sparita dalla neve guardate eccola qua ci siamo troppo accaldati col camino amore io sono tutta rossa allora in contatto di qua vedete noi siamo tipo al coperto si è vero c'è tipo un portico quindi con tutti i negozi guardate che adesso sono chiusi sono tutti chiusi questo purtroppo è un po' un paesino fantasma c'è il rumore che sentite è lo spazzaneve si che sta pulendo aspetta glielo faccio vedere eccolo là come è una tempesta di neve questa non è neve normale è bravo è quello spazzaneve comunque ecco purtroppo questo brilla che bella si che freddo comunque si questo poesino è sul terminillo appunto si chiama pian de valli e evidentemente un po' di tempo fa un po' di anni fa c'è stato un boom hanno fatto tanti appartamenti tante casette piste da sci e cose così hanno fatto un investimento iniziale perché anche le piste ci sono con le funivie tanti ristoranti negozi solo che adesso è un po' in decadenza esatto è un po' in decadenza purtroppo non ci viene praticamente quasi nessuno che è successo sta per passare lo spazzaneve e quindi insomma non c'è più nessuno e tante cose sono chiuse però è bello comunque troppo neve mamma mia vabbè però ecco si può passeggiare qui nel nel porticato sono due strade è un peccato è un peccato perché il paesino comunque cioè secondo me merita perché la chiesa è molto bella c'è un matitone simil chieso che si trovano in Trentino in Alto Adige così e poi ti trovi a un'ora un'ora un quarto da Roma quindi cioè comunque sei vicino però la gente non ci viene cioè alla fine chissà perché è perché c'è un po' secondo me una carenza di servizi quello sì poi magari adesso vedete adesso è tutto chiuso cioè sono le otto e non c'è niente siamo le uniche persone oltre lo spazzanello che stanno in giro e poi comunque adesso in quest'epoca è anche diventato molto più facile che ne so andare in Svizzera in Austria o ci sono i treni veloci oppure c'è l'aereo ti fa il weekend magari invece tanto tempo fa la settimana bianca la facevi qua è vero tipo mezza Roma la settimana bianca la faceva qui io quando andavo all'elementare mi ricordo che tanti miei compagni di casa avevano casa qui adesso invece sono tutte in vendita e soprattutto vi dirò questa cosa vediamo chi riesce a togliere cioè a prendere un po' di utilità da questo dato ci sono delle case in vendita a 15.000 euro è vero 15.000 euro una casa qui quindi sicuramente ci saranno degli svantaggi insomma perché praticamente 11 mesi l'anno è un paese fantasma quindi non ci sono servizi infatti la tv adesso ce l'abbiamo in camera prende soltanto 4 canali totali il cellulare prende bene però internet non c'è quindi in realtà non lo so non lo so però 15.000 euro è veramente sono regalate quello che abbiamo pagato la panda praticamente metti che poi magari si rialza sì sì no in realtà è questo ecco ti trovi un'ora e un quarto da Roma c'è la neve è molto bello molto bello un po' di ristoranti ci sono ancora sì qualche ristorantino c'è non l'abbiamo mai provato però però ecco allora l'informazione è questa facciamoci un pensierino pure noi sì infatti vediamo la panda e prendiamo una casa qua poi ci veniamo a piedi no perché è carino solo che io penso l'informazione è questa vedete voi che potete fare con questa informazione io penso tipo che ne so noi adesso perché siamo entusiasti della neve però che ne so metti che compriamo una casa poi dopo un po' ci stupiamo perché non ci sono comunque attività le funivie sono ferme e certo anche in estate puoi andare a fare le camminate nella montagna avete visto anche in autunno noi siamo venuti al nostro anniversario comunque era molto bello il paesaggio però insomma due stradine sono non è che c'è chissà che però vabbè dai noi ci facciamo due passi speriamo di non infreddolirci troppo c'è un raduno di spazzaneve un raduno di spazzaneve e poi dopo ritorniamo a casa e ci mangiamo la torta morbidissima che bella perché ha nevicato un sacco non cadere che io prima sono a cascata qui c'è tipo la radio in mezzo alla strada buffo così boh che bella oddio certo che non avevo mai toccato una neve così tanto morbida è vero troppo morbida guardate allora ci saranno forse tipo 10 ore che nevita di eh sì che morbido che bello non so che cosa sta facendo se Esa è andato a correre là sopra non lo vedrete mai perché è tutto buio ma che fai guardalo guardalo ma che stai a fare amore amore tutto bene io mi voglio buttare anche amore ma che fai amore tutto bene amore sei tutto bianco ho troppo freddo amore oddio cioè Cesaro ha detto amore non ho più il tuo telefono in tasca cioè stavo dentro la neve amore te sei pazzo il mio iPhone 13 nuovo asciugalo dai se sei rotto me lo ricompri è morto raga quella situazione sta degenerando fa male troppo morbida noi c'eravamo scaricati dei film su Netflix da vedere ma abbiamo scoperto che oggi fanno in tv interstellar che è il film preferito di Cesar quindi manco a farlo apposta perfetto per il tuo compleanno nel frattempo stavamo per soffiare la candelina sulla torta tanti auguri a te tanti auguri a te bello vero auguri amore buongiorno Gemini ha appena smesso di anzi in realtà non ha smesso però è un po' diminuito prima stava nevicando tantissimo infatti non so la panda se sarà incastrata secondo me si comunque qui abbiamo fatto il caffè ok adesso andiamo a fare una bella colazione a letto perché fa troppo freddo cioè guardate che bufera oddio meno male che non siamo qua il calduccio mamma mia poi tra l'altro ho fatto i cornetti ma siccome erano nel forno a gas si sono un po' bruciati vabbè male che fa se abbiamo la torta dai non importa non possiamo avere più che c'entra il pibu infatti che bello è uscito un sole stupendo anche se le previsioni oggi davano neve e brutto tempo tutto il giorno quindi noi abbiamo sistemato tutta quanta la casa come l'avevamo trovata abbiamo rifatto tutti i nostri bagagli e adesso usciamo oddio usciamo e andiamo a goderci un po' di questo spettacolo e poi dopo insomma ritorniamo a Roma è stato molto carino c'è un sole stupendo che devo far vedere da questa finestra guardate che bello bellissimo lì c'è l'altalena dove abbiamo giocato ieri sera sicuramente avrete visto le stories su instagram che bello vorrei andare a esplorare tipo lì dietro che non siamo mai andati noi di solito arriviamo fino a quella piazza là e poi saliamo lì non so se vedete che c'è un signore là sopra sulla montagna perché lì parte il percorso che facciamo noi normalmente quindi andiamo di là invece da questo lato non siamo mai andati ai giochi ci arriviamo facendo il giro verso la chiesa che sta di là e poi dietro la chiesa ci sono i giochi però insomma in quella strada lì dietro non siamo mai andati ora vediamo se riusciamo ci andiamo a fare una passeggiatina di là e poi torniamo a Roma anche perché oggi pomeriggio abbiamo sennò saremmo rimasti di più abbiamo sia da festeggiare il compagno di Cesar con i nostri vicini che sapete che insomma ormai siamo amici c'è un bel rapporto quindi facciamo una piccola torta anche insieme a loro con una bella bottiglia di spumante e poi stasera invece con i genitori dei fratelli di Cesar quindi dobbiamo poi intorno magari alle 7 andare a casa loro e iniziare a preparare la cena perché facciamo una cenetta messicana e devo finire di preparare l'altra foresta nera più grande per appunto stasera invece con i vicini ho pensato di fare una bella torta col panettone quindi ho il panettone quello per il cioccolato di Lidl che ho preso che è buonissimo vorrei farcire quello e insomma fare una torta natalizia visto che appunto il compleanno di Cesar capita di dicembre il 10 dicembre c'è il periodo di Natale quindi solitamente entra la foresta nera se dobbiamo festeggiare in altri modi insomma con altre persone per non rifare sempre la stessa torta che è la sua preferita a volte faccio anche appunto panettoni farciti pandori farciti eccetera e niente comunque adesso andiamo a portare la roba in macchina e poi ci facciamo un'ultima passeggiata sulla neve con questo stupendissimo sole metti a fuoco ecco siamo venuti qui oddio davanti alla chiesa c'è tantissimo vento però oggi è stupendo perché c'è un bellissimo sole ma fate quanto è bella la chiesa lì bella eh lì c'è anche il pupazzo di neve è bellissimo sì guardate che carino e poi si intravede sopra la stazione della vetta qua quella non l'avevamo mai vista vero? credo che quella si chiama Termini Luccio credo là sopra non lo so comunque sì lì c'erano pure delle luci ieri sera lì sopra è proprio carino guardate quanto è alta la neve che bello allora dove abbiamo dormito noi è praticamente dietro a questi alberi queste invece sono le case che vedevamo dalla finestra e questo è anche il grosso albergo e anche questo che vedevamo dalla finestra sì siamo venuti in questa strada qua l'antenna dove? ah sì sì sempre l'antenna molto bello qui anche è pienissimo di neve lo spazzaneve ha lavorato tutta la notte qua colpisce quando viene d'estate hai una sensazione di troppo fuggimento sono cadendo c'è i puccini sì sì è vero adesso con la neve è un po' diverso sì copre tutto il brutto infatti sopra scivolare guardate qua che bello cioè gli stivali non bastano la neve è troppo alta oh mamma è altissimo voglio andare lì dove c'è quel forno per vedere che cos'è ah è arrivato quel momento amore in cui ti renderai conto che i miei acquisti inutili di tiger servono a qualcosa guarda eh eh hai visto? se non avessi comprato questo coso come facevamo adesso? ta-da fatto oddio quanta neve non ce la faremo mai però comunque mettiamo le catene perché per uscire qua la vedo dura ok meno male che avevamo fatto la prova a casa a mettere le catene perché con le mani ghiacciate diciamo che non è esattamente la stessa cosa ma ci riesci? sì sì tra un'oretta ma sì dai ok guarda wow già fatto noi ci stiamo riparando con la macchina perché è arrivata tipo una folatissima di vento con tutta la neve intanto stiamo ancora cercando di togliere la neve dalla macchina questa sera ha messo le catene e sì a mo' andiamo via perché il sole il sole se ne sta andando e fa freddo e siamo tutti bagnati oddio guardate quanta non ce la faremo mai a pulirla bene che freddo la mitica panda è riuscita a uscire da là cioè era veramente sì era veramente difficile e niente noi stiamo tornando a Roma con le catene e poi con tutta un'altra cosa sì vero non scivola per niente guarda che bello comunque si sta rovinando cioè si sta guastando il tempo non c'è più il bel sole di stamattina adesso inizierà a fare freddo freddo come ieri sera che bello però mi piace tantissimo la neve ti è piaciuto il tuo compleanno amore molto bello se la neve bello eh stiamo scendendo dalla montagna guardate che bello eccoci tornati a casa io sto preparando ben due torte questa per festeggiare sesa stasera con la famiglia mentre questa per festeggiare con i vicini ho ritagliato se vabbè ritagliato ho tagliato a strati il panettone per il cioccolato di Lidl e adesso lo farcisco con secondo te amore che ci metto panna e che crema perché questa è alla pera la foresta nera con le amarene ci metto crema al pistacchio e panna montata in ogni strato che ne pensi sì vero allora questo sarà pere cioccolato pistacchio e panna mentre questa foresta nera quindi come quella di ieri sera andrò a bagnare il pane con lo sciroppetto delle amarene poi metto la panna montata le amarene e le scaglie di cioccolato in ogni strato quindi per prima cosa devo montare la panna qui l'ho già messa nella ciotola di Kea così non schizzo ovunque e adesso andiamo a montarla torta 1 panettone pistacchioso torta 2 foresta nera amarenosa e ho un problema con il cacao come potete vedere anche nell'altra torta mi sono venute queste patacche così vabbè l'ho messo in modo super delicato stavolta ma mi sa che la retina che ho è troppo grossa devo comprarmene una sottile sottile proprio apposta però vabbè preferivo tipo questo effetto qua invece che questo però ok sembra buona adesso questa la metto in frigo questa invece la mangiamo tra poco allora io mi devo aprire un po' di calendari dell'avvento perché allora il 9 mi pare che l'avevamo aperto giusto qual era il 9 che cosa avevamo trovato era questo no era questo qua della tisana sì ecco era questo qua che tra l'altro l'abbiamo portata in montagna ed era buonissima questa quindi mi devo aprire il 10 eccolo qui degusta box iniziamo da loro mi piace quello che vedo che cosa sono dei mini mini conetti ripieni di cacao che carini ma e questi scusa ma vabbè tipo insieme al caffè per esempio oppure su un gelato ce li metti sopra buoni può essere un'idea ci piace quest'idea poi allora Kiehl's vediamo un po' dov'è il 10 vediamo se il giorno del tuo compleanno porta fortuna amore ah ma aspetta però oggi è 11 quindi devo aprire pure l'11 eccolo qua proprio sul tuo maglione e li dico senza perché questo tizio sembra lui allora sembrano interessanti anche questi oddio brown rice chips sottili chips croccanti di riso integrale con sale marino carini anche questi per un aperitivino un antipastino natalizio oh le cose del primo piano sono sempre pesanti guarda qua quanto sfonda tutto sfondato allora passiamo a Kiehl's vedo l'11 quindi apriamo prima l'11 il 10 continuo a non vederlo poi come sempre mentre eliterò il video lo vedrò eccolo qua l'ho trovato allora nell'11 c'è ah questo mi piace tanto l'ultrafacial cleanser sì questo è uno dei miei loro prodotti preferiti l'ho già provato quindi sono contenta e nel 10 vediamo un po' che c'è calendula serum infused water cream questa non l'ho mai provata una cremina alla calendula carina carina mi piace poi passiamo a essi con Ikea siamo rimasti pure indietro more perché non l'abbiamo più mangiati avevamo sempre da fare uffa allora 10 di essi vediamo che c'è smaltino trasparente no chips no chips ahead ma che cos'è un trasparente semplice questo sì un trasparente semplice invece l'11 eccolo qua allora allora questo è licorice e questo sicuramente è nero allora quello che avevamo aperto un po' di giorni fa vedete non era nero nero mi sembrava che era un po' un blu scuro un colorino strano allora mentre Ikea allora 10 eccolo qui vediamo se oh amore non c'è ma come non c'è non t'ha portato fortuna il e dove è andato finì no non c'è proprio amore non è che è caduto di lato proprio non c'è non c'è come è possibile ne troveremo due da un'altra parte allora e vediamo l'11 che è oggi che non si apre sembra tipo incastrato oddio ce ne saranno due ma era da tutt'altra parte oddio l'ho rotto tutto oh no sto facendo un casino e vedi infatti ce ne è caduto uno da un'altra parte non apparteneva a questo e poi c'è il cioccolatino dell'11 che però non lo mangio adesso perché tra un po' dobbiamo mangiare altre cose da dove sarà cascato questo? dal 16 secondo me o da questo dal 24 perché l'altra casella grossa no amore ma perché il tuo non c'è non capisco intanto mi sono già spoilerata il 24 perché stava qui accanto boh vabbè niente ne troveremo due ecco è cascato però non era questo ne troveremo due da qualche altra parte vabbè comunque poi ci mangiamo l'11 dai mi sono resa conto che nemmeno il 9 avevamo aperto ancora che si è questo e qua ce ne sta un altro bello grosso oddio intanto continuo a vedere cose che cadono vabbè a Tanti auguri a te Tanti auguri a te Tanti auguri a te